Egidio Santa Lucia presenta la solenne celebrazione della Madonna di Piano di Campo. Maggio è il mese dedicato alla Madonna e anche il piccolo borgo di Oliveto Lucano festeggia la sua amata e venerata Madonna di Piano di Campo. La prima domenica di maggio si svolge la processione per il trasferimento della statua della Madonna che custodita tutto l'anno nella cappella in campagna viene portata in paese dove resta per tutto il mese di maggio. Per devozione verso la Madonna vengono realizzate le cente, la loro realizzazione richiede mani esperte, e la collaborazione di molte donne. La base di lavoro è un telaio in legno, che viene ricoperto da fettucce di stoffa bianca e da candele tutto intorno, abbellito alle estremità da fiori e spighe e da una immagine del santo a cui è dedicata. La mattina della festa La festa, prima dell'inizio delle celebrazioni liturgiche, vengono portate in chiesa accompagnate dalla banda. Dopo la Santa Messa apriranno la processione, portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. La festa, prima dell'inizio delle cose, vengono portate in testa dalle donne del paese. Una produzione, Egidio Santa Lucia Multimedia. 2023.